Lorenzo Lorenzo Tieni Questa è una cosa, un pacco è arrivato per te Grazie Mettiti sul letto Ho messo Mamma che disastro contro questa camera Lo so E Ce la fai? No Ah si si Ce la faccio Che cos'è? Cos'è? Minecraft Minecraft? Che cos'è? Ma che cos'è Minecraft? E' un videogioco No, lo sappiamo che cos'è Minecraft, lo sanno tutti E' il tuo videogioco preferito Ma questo che cos'è? Tu non sei quanto è bello però Vabbè lascia perdere, a me non mi piace però Vai Che cos'è sta roba? Piano piano, se rovina, fermo Piano piano Aspetta Piano Aspetta Non è un poster E' un mega adesivo da muro Adesso lo attacchiamo Ragazzi adesso attaccheremo questo adesivo da muro Allora non ci sono le istruzioni No Vabbè ma che cibo che vuoi che cibo Eh ma è grande Quindi io direi facciamo così secondo me Tiriamo giù un pezzo Mamma mia Non lo attacchiamo così Non lo attacchiamo così E spero che questo sia più o meno dritto Che ne sai tu? È dritto che ho Viene abbastanza male Grazie Ecco eh Vediamo qua Questo qua Lo sr Vorrebbe forse una spatolina Mamma mia Ci vorrebbe una spatolina secondo me Una carta di Di ultifedeltà Qualcosa Vabbè Ok Ci vediamo fra un secondo Ah no no eccole Faccio faccio Niente ragazze Praticamente ragazzi Ho un portal di minecraft Un portal di minecraft Con schifo e miniera Con un sacco di mostri Qua se vedete c'è il bagno Eccol qua Se lo vedi da lontano Lorenzo Mamma anche Guarda un po' come sembra che esce dal muro Sembra che c'è un buco nel muro È vero Sembra che c'è un buco nel muro Sembra che c'è un buco nel muro Forte eh Ragazzi c'è un microessivo La scritta Minecraft Eh è pure quella Adesso la attacchiamo Finito Allora abbiamo staccato la scritta Minecraft Un po' storta Non fa niente Eccolo qua è finito Sorpresa Contento? Sì Questa è una sciocchezza sto coso Poi vi mettiamo il link in descrizione Ragazzi comunque questa parte qua Che cos'è il slime Eh? Beh È praticamente un microessivo Sono due adesivi sì Si vede che qua è un po' uscito fuori Però fa niente Ah è vero però se no Vabbè comunque su Abbiamo fatto un po' di corsa La prossima volta li monteremo meglio Qualora ne comprassimo di nuovi Va bene? Dai il video è proprio sciocco super rapido Ciao ragazzi Se il video vi è piaciuto Mettete un bel mi piace Iscrivetevi al canale Ciao 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 Grazie a tutti.